Vuoi metà? No. No, grazie. Rosario, Rosario, sta indietro. Eh, mangia, che lui da voglio fa' male, dai. Ma scusa, ma perché tu devi mangiare la fetta biscottata mia? Ma io non lo so. Ma perché ti sei messo sui due? Questo io ti chiedo. Buongiorno, buongiorno. Questi sono i tassisti di Roma. Tassista 1, tassista 2, tassista 3. Oh, ma c'hai del taglio uguale, eh? Tassista 4, la signora che fa, tassista 5. La macchina, la macchina. E poi sono tutti... La cosa bella, ragazzi, è questa. È arrivato un taxi, qua, eccolo qua. E sono scese cinque persone. Sono cinque tassisti. Eh? Eh beh, certo. Ti immagina, finivano con cinque taxi. Dai, su. Allora, facciamo un po' di pubblicità. E' un po' di rettura. Questo è 533, che è? Ah, è 35,70 questo. Ho letto 533. No, che ho letto 533. Vabbè. Ma si fanno la sigaretta, tranquilli. Buon lavoro, buona giornata. Che c'è oggi a Roma? Qualcosa? Manifestazioni? Oggi è benedito. E quindi traffico oggi. Eh sì. Fa parte il promotore. Oh, ragazzi. I tassisti di Roma sono i più famosi d'Italia. D'Europa. 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 Chi va... Viene a Roma. Ho pensato che c'era un tassista quanto era simpatico. Roma e Napoli, diciamo. Non sono pure i sindaci di Roma. Perché? Si conoscono bene. Eh sì. Perché? Da Ludelli a Beltroni. Ah sì, perché quando vi incazzate voi sono cavoli, sono cavoli, sono cavoli. Ma si offendono i tassisti di Milano perché dice... Ma Milano è bello perché tu prendi un tassi... Buongiorno. Oh, dov'è che l'ha portato? A Milano sono tutti meridionali tassisti. Eh? No, a Roma sono tutti... Dove porto? A Roma sono solitari. Una volta prendo un tassi... Prendo un tassi, no? Da... Da casa per andare a Via... Alla Radio. A Radio 2, via... Oh, mi ricordo... Via Siaco. Via Siaco. A Via Siaco. Adesso facevo la barba lunga, occhiali, capelli sfatti. Mi metto dietro e faccio... Via Siaco. Allora a un certo punto il tassista mi guarda dallo specchietto. Mi guardava dallo specchietto. Mi guardava e non capiva, no? E mi guardava, e mi guardava. Poi fa Via Siaco. Quando arriva la radio, davanti alla radio mi fa... Oh, ma... Chi sei? Ma chi sei? Gli faccio... Ma chi sei? Chi so? Gli faccio... Ma chi sei Fiorello? Gli faccio... Sì? Ah Fiorello? Ma come cazzo te vesti a cazzo de carne? Ma come te vesti a cazzo de carne a Fiorello? Ma sto figlio de una mignotta, vabbè... Così, ma ho cominciato a... Ridendo, eh? Ridendo... Sto figlio de una... Ehi, ehi, ehi! Te sei scoperto!